Sono Gloria Mazzoni, titolare di Airbank, un'azienda piacentina che si occupa da oltre 15 anni di soluzioni anti-inquinamento. Noi siamo degli HSE solution provider, ovvero forniamo ad aziende di qualsiasi tipo di settore soluzioni in ambito HSE, soluzioni anti-inquinamento. Cosa significa? Significa che ci preoccupiamo soprattutto di prevenire e curare sversamenti di sostanze potenzialmente pericolose, offrendo alle aziende quindi soluzioni di prodotti assorbenti in ambito di assorbimento e contenimento. Oggi siamo qui a Calendasco per il progetto Green for Life, è la seconda edizione di questo progetto che ci porta ad effettuare varie tappe in Italia. La prima parte è proprio qui, nella nostra terra madre, vicino a Piacenza, nel comune di Calendasco, dove ci occuperemo di raccolta di rifiuti. Il progetto di Green for Life consiste in due iniziative. Uno è proprio quella oggetto di oggi. Abbiamo dedicato questa giornata insieme ai nostri collaboratori, alle nostre famiglie, bambini. Abbiamo dedicato proprio alla raccolta di rifiuti abbandonati e il secondo consiste invece nella donazione di un kit a enti caratteristici del nostro territorio con l'obiettivo di formare e condividere delle best practice sul pronto intervento anti-inquinamento. Perché abbiamo deciso di creare questo progetto Green for Life? Beh, innanzitutto AirBank ha proprio nel suo business, il business di AirBank è proprio quello di fornire soluzioni anti-inquinamento. Quindi noi ci occupiamo della salvaguardia dell'ambiente. Ma volevamo come azienda fare qualcosa che uscisse dalla nostra attività e entrasse in una sfera più etica per il nostro territorio. Quindi abbiamo messo in gioco noi stessi per poter appunto dare una mano, anche perché siamo consapevoli che non c'è un pianeta B, there is no planet B e che ormai la sostenibilità non può più aspettare, bisogna intervenire. Seppure questo è un piccolo contributo, per noi rappresenta un grande gesto. Siamo molto contenti che ha aderito alla nostra iniziativa Green for Life di raccolta di rifiuti urbani abbandonati. Il nostro partner Yamaha Motor Racing, ormai insieme grazie a Francesco che ha partecipato a questa raccolta, Francesco Galluccio, hanno dato il loro contributo. Questo per noi è molto importante perché, ripeto, ormai la nostra partnership è più che decennale. La loro attenzione verso l'ambiente ci viene dimostrata ogni giorno, non solo attraverso il contributo che noi gli diamo, la nostra consulenza, l'attenzione all'ambiente nella loro sede, nel Paddock Pass, nella loro filosofia, ma anche proprio contribuendo a livello umano a questo progetto con appunto la raccolta dei rifiuti. Quindi siamo molto contenti che oggi Yamaha abbia partecipato. Questa, come dicevamo, è la seconda edizione ed è la prima giornata Green for Life del 2023. Seguiranno altre giornate, almeno sono già in programma altre tre e ne seguiranno ulteriori. La prossima sarà al Parco del Circeo, poi successivamente in un parco di Modena e successivamente ancora in Sardegna vicino a Cagliari. Questo perché abbiamo coinvolto dei nostri partner e vogliamo sempre di più essere presenti a livello nazionale per dare, come dicevamo, un piccolo contributo, ma un grande gesto al nostro progetto. La rete dei punti di sicurezza Airbank è ancora l'ennesima iniziativa che abbiamo deciso di intraprendere per aiutare la salvaguardia dell'ambiente. È una rete che abbiamo creato nel 2021, una rete di punti sicurezza appunto, creata insieme ai nostri partner per essere presenti a livello nazionale. Abbiamo ormai creato oltre 20, più di 20 punti sicurezza, che hanno l'obiettivo di supportare, fornire e dare consulenza nei momenti in cui si verificano degli sversamenti sversamenti che consentano a questi punti sicurezza di intervenire tempestivamente sul territorio. Questo perché? Perché ce l'avamo resi conto che nonostante Airbank abbia una grande disponibilità di materiale a stock, nel momento in cui si verifica un incidente stradale o un incidente all'interno di un'azienda in termini di sversamento di olio, di sostanze potenzialmente inquinanti, bisogna intervenire nel più breve tempo possibile. E quindi non c'era il tempo necessario per arrivare in loco, anche se la distanza poteva essere di poche ore. Quindi è per questo che abbiamo dotato tutti i nostri punti sicurezza di una dotazione standard, che è stata definita dalla nostra esperienza, per poter intervenire in qualsiasi tipo di sversamento, sia di oli idrocarburi che di sostanze chimiche, sia di sostanze universali, in modo che questi punti sicurezza possano agire nell'immediato. Poi successivamente interverrà Airbank per risolvere la problematica.